ciao a tutti ragazzi oggi vi farò vedere come inserire dei plugin su bookit e grazie a the nick fra per avermelo detto e allora ve lo farò vedere allora innanzitutto andiamo su forum ufficiale di bookit cioè potete prendere poi dall'altra parte solo che qui ne troverete di sicuro di più quindi andate sul sito ufficiale di bookit che è bookit.org e andate qui dove c'è get plugin e ci ritroveremo un posto di lavoro cercato abbiamo get plugin e ci ritroveremo di fronte a questa pagina qui praticamente ci saranno tutti tutti i suoi pubblici caricati infatti vediamo qua è la data più recente la data più recente a quella più lontana allora qui a sinistra troveremo tutte le varie categorie generali meccanismi informali annunci sarebbe cosa genere economia chat anti briefing anti briefing vabbè bla 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 allora qui andiamo inserire il nome del plugin o alternativamente potremmo mettere il nome dell'autore io ho fatto soffrire un esempio con 8mi che è facile allora clicchiamo su sul plugin e ci ritroveremo cioè la pagina è sempre la stessa cambiando sempre queste cose di qua che è una mano che è cambiato di sicuro lo farà diverso quindi ci dobbiamo davanti a questa pagina qui avevo tutte le caratteristiche che è angelog però non ci interessano mi interessa questa parte a destra e allora queste qua sono le categorie ovvero questo è tool per l'admin e anti briefing tool tutte le varie versioni cliccando su download cliccando su download ci ritroveremo davanti a questa altra schermata qua a destra il primo è quando è stato caricato il file giugno 09 giugno questa è la versione del gioco molto importante questa è sviluppata per 1.2.5 ma io ho già provato e ho già provato oggi ho provato e funziona anche nel 1.4.2 quindi potete scaricarlo c'è molte mod non sono aggiornate qui non sono scritte aggiornate però funzionano stesse questo è quel file che dobbiamo scaricare poi vabbè tutti i file download e questo non ci interessa clicchiamo su download e ci scaricherà questo file.jar io ce l'ho scaricato quindi non mi interessa ed è ed è ed è ed è porca me perché si vede così ok download auto ecco qua auto c'è sono diversi da modi però sempre lo stesso procedimento ci troviamo davanti a questo file jar adesso lo copieremo no che ho fatto porco windows ma quando si diverso allora facciamo copia andiamo sulla cartella del nostro server questo qua il mio server andiamo dentro la cartella plugin io ho messo che quest'ora è qua due punto segna lo stesso vabbè ho copiato dentro la cartella plugin una volta che apriete il server si formerà una cartella col nome del plugin ovvero mettete questo plugin.jar quando apriete il server si formano tutti i file creerà questa cartella entra questa cartella troverete sicuramente il file config e poi tutti gli altri messaggi fa il config solitamente quello dove sono tutte le configurazioni che volete mettere e bla 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 già c'è pare da da plugin plugin grazie per aver visto questo video lasciate un mi piace un commento se avete domande o per qualsiasi cosa basta scrivere grazie e alla prossima